Le reti neurali artificiali sono dei paradigmi computazionali caratterizzati da tre elementi. Abbiamo un'architettura dove l'unità computazionale fondamentale, il neurone, interagisce con suoi simili al fine di rispondere ad una necessità applicativa. Abbiamo una funzionalità associata a tale architettura, che dipende in primis dalla funzionalità messa a punto dal neurone e quindi dalle interconnessioni neurone-neurone. Infine abbiamo una procedura di apprendimento il cui obiettivo è quello di tarare dei parametri associati alla funzionalità dei neuroni e quindi dell'architettura per risolvere un problema applicativo specifico. La funzionalità svolta da un singolo neurone può essere rappresentata attraverso un albero dove il neurone, l'unità computazionale, riceve degli ingressi, ha dei parametri associati agli ingressi e ciò che viene valutato è una misura di affinità tra il vettore degli ingressi e il vettore dei parametri neurali. Ottenuto il livello di attivazione del neurone che è associata alla valutazione di questa affinità, il valore di attivazione viene elaborato da una funzione, detta funzione di attivazione, che è fornita in uscita neurale. La funzione di attivazione può avere una caratteristica sigmoidale e quindi essere saturante oppure può essere un'uscita lineare. L'unione di più neuroni all'interno dell'architettura neurale porta a una rete neurale multistrato. In questa rete neurale multistrato abbiamo gli ingressi che vengono presentati alla rete, la propagazione dei segnali e quindi la computazione della rete neurale attraverso la computazione del neurone all'interno della struttura dell'architettura per generare un'uscita. Visto che la funzionalità della rete artificiale è parametrizzata in un vettore dei parametri, la procedura di apprendimento dovrà identificare la migliore configurazione dei parametri che consente di risolvere un problema applicativo. Quando il numero di strati neurali all'interno della rete è profondo, quindi sono più di uno, si parla di rete profonda, apprendimento profondo e quindi deep learning. Una delle caratteristiche fondamentali che ha reso questa tipologia di architettura particolarmente interessata è che sono degli approssimatori universali di funzione. I risultati teorici che ci garantiscono questa bellissima proprietà consentono in termini applicativi di rispondere alle necessità che vengono dal mondo reale. In particolare questo tipo di rete vengono utilizzate per risolvere problemi di natura predittiva, quindi si vuole predire una serie temporale, classificazione, quindi si vuole classificare ad esempio dell'immagine di natura biomedica alla ricerca di una malattia o di una problematica al suo interno, oppure di tipo approssimazione di funzione, quindi l'obiettivo è quello di ricostruire una funzione partendo da un certo numero di punti e informazioni date. Le reti neurali e artificiali, in particolare quelle basate sulle architetture di tipo deep learning, costituiscono oggigiorno l'elemento abilitante allo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei paesi evoluti.